Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Si apre l'insegna della sobrietà al mandato del mio presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli che nel giorno del suo insediamento è arrivato ad Ancone in terreno Il comune di Fano ha vinto ricorso al Tarda, al 2016 partiranno i lavori per la strada delle Barche a Sassonia Sud Tra pochi minuti il fisco d'inizio della partita fra Nazionale Calcio Prefetti e Nazionale Calcio TV e lo Stadio Mancini Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con la prima conferenza stampa ufficiale del mio presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli Nel giorno del suo insediamento l'ex sindaco di Pesaro ha preso il treno per arrivare a Palazzo Raffaello ad Ancona Guardate Arriva in treno da Pesaro dove abita per insediarsi nel palazzo ad Ancona Neopresidente della regione Marche, Luca Ceriscioli Scelta ecologista ma soprattutto un omaggio alla sobrietà Che come aveva annunciato in campagna elettorale sarà la caratteristica del suo mandato In treno, sì, un impegno preso con gli elettori proprio nelle prime uscite della campagna delle primarie addirittura È stata una risposta a una domanda, mi ha chiesto come pensa Dio, non ci avevo pensato La prima cosa ho detto, ma penso in treno È diventato un impegno e mi sembra una cosa anche bella, un bel segnale, un modo di muoversi rispettoso dell'ambiente E anche vicino a quell'idea di sobrietà che i marchigiani ci chiedono L'insegnante di matematica oggi ha tenuto una conferenza stampa Che abbiamo trasmesso in diretta su Fano TV e Pesaro TV E in cui ha affidato ai giornalisti le prime riflessioni Come primo atto racconta la firma di due nomine Quella della portavoce Tala Savona, giornalista che lo ha seguito in campagna elettorale E del caposegreteria Fabio Sturani, ex sindaco di Ancone e attuale presidente del CONI Marche Da lunedì poi Ceriscioli sarà al lavoro per incontrare gli alleati E formare la nuova giunta che potrebbe essere presentata insieme al programma Il prossimo 22 giugno, quando si terrà il primo consiglio regionale Già oggi l'agenda è piena, ha detto Ceriscioli Ma sono arrivati anche i primi problemi Le priorità inoltre sono diverse, ha precisato E il primo dei dirigenti ad essere contattato sarà quello al bilancio Ma innanzitutto rispettare quell'impegno sulla sobrietà Su un uso attento delle risorse che la politica spende Perché è il primo livello di avvicinamento ai cittadini Se c'è un obiettivo che abbiamo tutti quanti è quello di essere più vicini Secondo, lavorare da subito invece su quel cambiamento che è stato promesso Dalla riorganizzazione della macchina regionale per traguardare nuovi obiettivi All'incontro con quelle che sono le strutture più importanti Che presidono le politiche regionali per poter avviare quel cambiamento di cui abbiamo parlato per tempo Quindi leggi più semplici e più snelle per quanto riguarda il sistema normativo Una capacità di corrispondere nei termini di servizi Soprattutto quelli legati alla salute e ai bisogni della nostra comunità Un'economia che ha bisogno di una ripartenza E quindi mette a disposizione le risorse di fondi europei il prima possibile Ceriscioli che preferisce farsi chiamare presidente e non governatore Ha sottolineato la necessità di riorganizzare la sanità e abbreviare le liste d'attesa A fine conferenza invece è intervenuto sul tema della comunicazione Ha detto che sarà presente anche sul social network però con un profilo molto istituzionale Sì, il più possibile istituzionale anche se gli spin doctor comunicativi chiedono di farlo più amichevole Perché è un po' il linguaggio dei social Ma pensando il social come una modalità contemporanea per dialogare con i cittadini Far conoscere le cose che la regione fa e raccogliere da parte loro i suggerimenti Le indicazioni che vorranno dare Quindi un modo per partecipare diciamo 2.0 alla vita della regione La conferenza stampa integrale potrete guardarla nel nostro sito internet OcchioAllanotizia.it E adesso invece parliamo della strada delle barche a Sassonia Sud Perché il comune di Fano ha vinto ricorso al TAR Entro la fine dell'anno dovranno essere consegnati i lavori La nostra strategia si è rivelata vincente Quando è arrivato il dignigo della sovrintendenza in molti si sarebbero arresi Ma noi no È soddisfatto il sindaco di Fano Massimo Seri che questa mattina ha annunciato in conferenza stampa La battaglia vinta dal comune per la strada delle barche dopo aver fatto il ricorso al TAR Ora dobbiamo correre perché purtroppo questi ritardi burocratici ci portano ad accelerare i tempi Per arrivare entro la fine dell'anno con gli atti amministrativi necessari e soprattutto con l'appalto dei lavori Ma questo è un grande risultato perché è un'opera che servirà alla nostra comunità Servirà alla canteristica ma servirà anche per rafforzare e mettere in sicurezza Viale Ruggeri L'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini ha spiegato invece nel dettaglio le procedure successive Ci saranno alcuni espropri da fare e nel giro di un consiglio comunale o due quindi direi entro pochissimo Porteremo in consiglio comunale un progetto preliminare che costituirà variante al piano urbanistico E poi procederemo all'elaborazione del progetto esecutivo per arrivare alla fine del percorso entro l'anno Durante l'incontro con i giornalisti il primo cittadino è poi intervenuto sulle polemiche Inerenti ai cumuli di sabbia e ghiaia presenti in zona Arzilla La storia è un po' diversa da quella che è stata raccontata sugli organi di informazione Ma soprattutto perché si è cercato di strumentalizzarli L'amministrazione andando incontro ad un'esigenza di portare via della ghiaia che si formava nell'Arenile Già dall'autunno dello scorso anno abbiamo dato disponibilità ed è una novità assoluta Perché in passato queste cose non si sono fatte di ammassare 800 metri cubi di ghiaia Che poi ci saremmo fatti carichi di utilizzare Ma non solo 800, noi ne abbiamo portati via 1000 Poi in realtà senza alcuna autorizzazione si è stata ammucchiata ulteriore ghiaia Ma in realtà era sabbia che quella non può essere utilizzata Allora è troppo facile poi criticare, addossare colpe su altri Quando intanto si è fatto qualcosa in più a favore degli operatori Ma soprattutto senza tener conto delle regole e delle disposizioni e degli accordi che si erano fatti Ma la cosa che più mi ha infastidito, ha proseguito il sindaco È stata la polemica avanzata dal consigliere comunale di progetto Fano Santorelli Sull'attenso struttura di Sassogna rotta e non riparata in modo tempestivo Non è così, ha precisato Seri Visto che il danno è stato recato da un mezzo Ci siamo dovuti rivolgere all'assicurazione per farlo sistemare Queste polemiche non aiutano la città Ma soprattutto sono ingenerose verso chi cerca di fare qualcosa in più di quello che dovrebbe fare Grazie Ed ora una breve di cronaca La polizia di Urbino arrestato a Fermignano Un 35enne marocchino già noto alle forze dell'ordine Sorpreso nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Il giovane che pochi mesi fa era già stato arrestato insieme a un connazionale Per una rissa in una birreria di Fermignano È stato sorpreso a casa sua in possesso di circa 50 grammi di hashish Suddivisi in porzioni Tra gli acquirenti prevalentemente persone del posto Compresi i giovani non ancora maggiorenni Per il marocchino si valuta anche l'espulsione dal territorio nazionale Torniamo a parlare del maltempo Perché il Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri Ha dichiarato lo stato d'emergenza nella regione Marche Per far fronte ai danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali Che hanno colpito il territorio nei giorni dal 4 al 6 marzo scorsi E da oggi i profughi che alloggiano a Fano potranno svolgere attività di volontariato Il protocollo d'intesa è stato firmato questa mattina nella prefettura di Pesaro Sono state regolamentate le attività di volontariato svolte dai cittadini extracomunitari Richiedenti protezione internazionale e ospitati nelle strutture di accoglienza nel territorio fanese È stato infatti firmato in prefettura il protocollo d'intesa per l'accoglienza dei rifugiati Che ha un anno di validità Nasce dalla necessità di consentire da un lato a questi giovani, prevalentemente giovani migranti Di poter comunque inserirsi sempre di più nel tessuto sociale locale Fornendo anche un'utilità alla collettività locale In maniera chiaramente del tutto libera e volontaria e in condizioni di piena sicurezza Dall'altra parte dalla necessità di consentire alle popolazioni locali, ai cittadini Di avere un contatto più diretto con questi migranti, con questi giovani E constatarne anche la volontà di inserirsi e di collaborare con la popolazione locale Come ricordato dal prefetto, al momento sono presenti 400 profughi in provincia Divisi in 18 strutture Nel capoluogo pesarese il progetto di volontariato ha già preso il via da diverso tempo Ed ora anche nella città della fortuna i rifugiati richiedenti asilo politico Potranno dare il loro contributo alla collettività Sì, sono diverse le possibilità che hanno Si tratta dalle piccole attenzioni che ci sono nella città Come il taglio dell'erba Ma anche aiuto a dei servizi che vengono svolti Per esempio abbiamo delle associazioni che gestiscono delle spiagge Mi viene in mente la spiaggia dei talenti Ma vuole avere anche un obiettivo culturale Quello di far comprendere anche i disagi e le storie umane che ci sono dietro queste persone Quindi un insieme di cose Una sfida culturale e dall'altra parte dare una dignità E una possibilità di essere protagonisti all'interno di una comunità che li accoglie Il Movimento 5 Stelle di Fano è intervenuto sul mini dragaggio effettuato al porto Ogni anche un mese dopo i lavori e oltre 200.000 euro spesi e presi dalle nostre tasche Dicono da pescatori e diportisti continuano ad arrivare la mentele per la difficoltà di transito All'ingresso del porto e del marina dei ceseri Praticamente soldi buttati al vento concludono perché di nessuna efficacia Le cose non sono cambiate con la nuova amministrazione Solo misure d'emergenza inutili e dispendiose Il Consiglio di Amministrazione di Asset S.p.a. invece ha approvato all'unanimità Il bilancio consuntivo 2014 con 37 milioni di fatturato Un milione e mezzo di utili e 300.000 euro destinati a un fondo anticrisi per gli indigenti Sul piano degli investimenti l'azienda ha previsto oltre 3 milioni per ampliamenti e rifacimenti Delle reti dell'acquedotto a Fano, Mondolfo e Monteporzio Inoltre quasi 2 milioni per le manutenzioni del servizio depurazione E l'ampliamento del depuratore di Ponte Sasso I cui lavori inizieranno dal prossimo autunno Circa 800.000 euro per scolmatori a mare, affognature e Fano Sul fronte dell'igiene ambientale sono previsti infine oltre 2 milioni Nuovi mezzi, attrezzature e infrastrutture Cittadini di Fano e Mondolfo insieme per creare un murale a mosaico Noi siamo andati ad incontrarli proprio davanti all'opera che hanno realizzato Due mesi di lavoro, 20 persone all'opera, centinaia di piastrelle colorate e tanta creatività Questi gli elementi che hanno reso possibile la realizzazione di un murale a mosaico Su una parete laterale del piazzale di Villa Valentina su lungomare a Marotta Entrando così a far parte dell'arredo urbano della città Quando è nata l'idea di realizzare questo progetto? Allora, due anni fa Chiaroscuro ha iniziato questa avventura del corso di mosaico Cinque lezioni Lì chi ha partecipato è rimasto travolto dalla passione E ha fatto delle opere a casa propria Fatto questo è venuto fuori un bel lavoro Ognuno di noi ha detto perché non presentiamo al comune la possibilità di realizzarlo per tutti i cittadini E chiamare tutti i cittadini che hanno voglia di partecipare Ed è nato così L'amministrazione chiaramente ha subito accolto con piacere questa iniziativa e ci ha supportato Un lavoro minuzioso che ha impegnato l'associazione culturale Chiaroscuro Insieme ad anziani con diverse patologie e disabilità Io mi sono accorta con mia madre che lavorando su questo mosaico Lei in quei momenti la sua malattia non c'era più praticamente Allora abbiamo cercato di allargarla questa possibilità Ora chiaramente questo è il primo lavoro Le persone si sono avvicinate un po' con timidezza Speriamo che prossimamente si avvicinino ancora di più Il mosaico rappresenta il percorso del sole Dall'alba sul mare al tramonto dietro il castello di Mondolfo Sono raffigurati inoltre onde, barchi a vela, pesci, meduse e gabbiani Allora il materiale ci è stato donato da privati, da negozianti, da piastrellistri Anche sì semplici cittadini che ci portavano vedendoci lavorare Ci portavano delle piastrelle, delle cose Noi abbiamo chiesto cose colorate perché poi neutri ne abbiamo tantissime Cose un po' particolari Inizialmente è stato creato un disegno su carta La nostra paura è che poi sul muro perdesse un po' l'effetto Invece è stato il contrario Quindi siamo veramente soddisfatte E sarà sicuramente una cosa da ripetere D'accordo con Beatrice e anche Angela Una fanese che ha contribuito alla realizzazione del mosaico Semplicemente che speriamo che questo sia il famoso progetto pilota Nato qua a Marotta E visto che io sono di Fano Spero con tutto il cuore poi di portare il tutto a Fano E che sia il bellissimo inizio di un nuovo viaggio E' un'opera che qualifica la casa del turismo Richiamando la bellezza del nostro mare E' orgoglioso il sindaco di Mondolfo Pietro Cavallo Che commenta il mosaico realizzato sul lungomare di Marotta E annuncia che verrà inaugurato ufficialmente nelle prossime settimane Sindaco un'opera meravigliosa che hanno realizzato i suoi concittadini Certo, è una cosa bellissima Qualche volta sorridente, niente problemi, niente allagamenti Ma è una cosa bella Devo ringraziare a nome mio personale, l'intera amministrazione L'associazione Chiaroscuro che si è impegnata E il risultato è sotto gli occhi di tutti Io ho ricevuto tantissime telefonate di cittadini Che sono venuti qui ad apprezzare questo lavoro bellissimo Ci sarà il modo di inaugurarla ufficialmente? Certo, ogni anno la Regione Marche Dopo l'assegnazione della bandiera blu che viene a Roma Tra lì al Ministero La Regione Marche fa la consegna ufficiale Delle bandiere blu ai comuni che le è stata assegnata Subito dopo noi diamo la bandiera a tutti gli operatori Diciamo sul litorale E io ritenevo, l'amministrazione riteneva Che in quel momento, in quella sede Si potesse fare sia l'uno che l'altro Perché si svolge qui a Villa Valentina Quindi si farà la consegna delle bandiere E l'inaugurazione di questa bellissima opera E da domani i cittadini potranno prendere in prestito Libri in concorso all'edizione 2015 del premio letteraria Che sono stati donati alla Mediateca Montanari di Fano Fase di lettura che i 500 alunni hanno fatto Dei 63 titoli arrivati in concorso E ora l'associazione letteraria è ben lieta di donare I titoli, le opere, i 63 romanzi appunto Alla città di Fano E quindi sabato 13 giugno dalle ore 18 Presso la Mediateca Montanari Saremo ben lieti di ospitare tutti In una serata in cui fra letture, cibo, musica Avverrà questa donazione Da quel momento in poi tutti i fanesi Potranno andare a prendere i libri per leggerli E quindi essere pronti con noi A ospitare le giornate di letteraria Che saranno il 9, il 10, l'11 ottobre 2015 Giornate dove arriveranno i vari autori I cinque autori finalisti E dove verrà appunto assegnato il premio E sempre alla Mediateca Montanari di Fano Lo scrittore evangelico Paolo Ricca Presenterà il suo libro intitolato L'ultima cena, anzi la prima La volontà tradita da Gesù L'appuntamento che rientra nelle iniziative Della cattedra del dialogo promosse dalla diocesi È previsto per domenica 14 giugno alle ore 17.30 Oltre ai 10.000 presenze in 4 giorni È il bilancio della festa del Fagiano e della Fragola Che ha concluso con grande successo anche questa edizione Il servizio di Lino Balestra Un successo annunciato Quello della festa del Fagiano e della Fragola Che è andata in scena nel parco del Fagiano e del Fenile Sono ben 12.000 le persone che vi sono transitate nei 4 giorni Una delle sagre più amate sentite dalla comunità Che si era persa nel tempo Ma che grazie alla volontà della fondazione Cante di Montevecchio Che ha riportato il parco agli antichi splendori È ritornata prepotentemente ad essere una protagonista delle stati fanesi Nel primo anno noi eravamo un po' indecisi Anche nella preparazione in tutto Però ho detto abbiamo fiducia Dico se c'è tempo da mangiare sicuramente non sbaglia Perché sono degli ottimi cuochi Quelli della cooperativa 4 quarti Perciò dico se c'è tempo da mangiare buono C'è una buona orchestra sicuramente la festa riesce Col primo anno è andata bene L'anno scorso è andata benissimo E quest'anno è sotto gli occhi di tutti che va tanto bene La forma originaria è rimasta invariata anche nella versione attuale Una cucina e una ricetta per degustare il fagiano Assolutamente strepitosa E poi naturalmente un contorno di musica Grandi orchestre e divertimento per ogni età Grazie all'impegno di tutti i volontari dell'associazione 4 quarti Noi ce la mettiamo tutta Io voglio rivolgere un saluto a tutti quanti Dall'associazione 4 quarti Ma soprattutto ringraziare tutti i volontari Che ci aiutano a far sì che questa festa sia una grande festa E ringrazio con un caloroso abbraccio Tutti gli sponsor che sono quelli Che ci permettono di realizzare certe cose E' iniziata da poco la partita del cuore allo stadio Mancini A scendere in campo la Nazionale Calcio TV e la Nazionale Calcio Prefetti Segue per noi questa serata l'insegna della solidarietà Luca Galtieri di TG Evans Luca a te Grazie Simona per la linea qua dallo stadio Grazie Simona Grazie Simona Io vorrei dire delle belle cose Però purtroppo non posso parlare Perché il microfono lo tiene Luca Galtieri Nazionale Calcio TV siamo pronti Mi astengo Mi astengo Siamo pronti per scendere in campo Qua i due elementi significativi di questa squadra nazionale Il mitico Vespona Vespone Aspetta un momento Scusate ma sono portature sane di tagliatelle Sto appena digerendo Devo andare in campo Oddio che si è mosso la salsiccia Questa è l'atmosfera che c'è in questo anteprima della partita Posso dire una cosa alle persone che sono a casa E che non sono venute a vedere la partita Siete delle brutte persone Questo è vero Anche perché oggi È una buona occasione per divertirsi tutti quanti insieme Con Vaz e Vespone A parte divertirsi È una buona occasione per Per fare della beneficenza Abbiamo fatto una giornata Faremo una giornata straordinaria Accoglieremo dei fondi Per quattro Ben quattro associazioni Cinque Cinque Sei Sei con me Quattro associazioni Onlus E quindi venite tutti Avete ancora qualche secondo per arrivare Saluto finale vai Vi giunga il mio inqualificabile come dico sempre Aspettate che deve salire il viscido che è in me Salve Saluto finale vai Ho fatto il suo Non puoi copiare il tuo E poi muori Non lo so Da Luca Galtieri Ma perché? Linea lo studio Dallo sito Mancini è tutto Ciao Simona Ciao a te Grazie Luca E come già annunciato L'incasso della serata Sarà devoluto a quattro associazioni di volontariato La mensa di San Paterniano L'associazione dei genitori con figli Portatori di handicap L'associazione Maruzza E l'associazione genitori sindrome di Williams La partita poi la trasmetteremo integralmente Nei prossimi giorni E per l'informazione è tutto Fra poco trasmetteremo una commedia Della compagnia dialetale El Brudet Grazie per la vostra attenzione Arrivederci a domani